La forza di chi perdona. Viene descritto il più grande dei peccati e viene descritta la più grande forma di misericordia per tutti coloro che riconoscono le proprie colpe e si affidano al perdono del fratello e delle sorelle. Dal Vangelo secondo Luca È inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui a causa del quale vengono. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Uno scandalo è un'azione cattiva che si ripercuote duramente nella vita nostra e altrui. È un'azione che ferisce e porta dolore in chi la subisce e in chi è coinvolto. Gesù risulta quasi violento nel sottolineare il pericolo degli scandali, in particolare coloro che hanno come vittima i fratelli più piccoli. Tale espressione non indica solo i bambini ma tutte le persone fragili, coloro che non hanno i mezzi per difendersi da soli e sono vittime indifese. Se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo, ma se si pentirà, perdonali. E se commetterà una colpa sette volte al giorno contro di te e sette volte ritornerà a te dicendo sono pentito, tu gli perdonerai. Il male mostra tutta la sua durezza e aggressività, ma in tutto questo non si chiude mai lo spazio per il perdono. Un perdono che non è dimenticare o fingere che non sia mai successo qualcosa. Perdonare è prima di tutto riconoscere il male chiamandolo per nome. guardare al male fatto o subito riconoscendolo come tale e senza giustificarlo. Chiedere perdono non è solo un atto di parole. Chiedere perdono significa pagare per il male fatto, riconoscerlo e porvi rimedio quando possibile. Gli apostoli dissero al Signore, accresci in noi la fede. Il Signore rispose, se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso, sradicati e vai a piantarti nel mare ed esso vi obbedirebbe. Gli apostoli davanti a tutto questo rimangono spiazzati. Chiedono una fede più forte perché riconoscono che Gesù gli sta chiedendo tanto. Ma chi gli chiede di più, una fede più grande, Gesù offre di meno. Una fede che diventa chicco di senape, qualcosa di piccolo che deve crescere. Il perdono è proprio questo, un seme piccolo che nelle ferite fatte o subite porta frutto. Quali percorsi di perdono sono chiamato a percorrere? Quali percorsi di perdono sono chiamato a percorrere?